Al NEXT SIM 2022 è stato annunciato City Driver, un nuovo simulatore di auto che ti permetterà di guidare una Tesla, una Porsche, direttamente dal tuo computer. Oltre a guidare con questa nuova esperienza potrai visitare delle città importanti europee e avrai modo anche di ottenere dei corsi che ti permetteranno di imparare a guidare. Ovviamente dovrai essere dotato di un volante. Pronto a scoprirlo?